L'Unione Europea non rinuncerà al Green Deal e all'agenda digitale, ma si discute sempre più di sicurezza e autonomia. Questi sono alcuni dei temi che finiranno nell'agenda strategica dell'Unione Europea, un piano redatto dai 27 paesi del Consiglio Europeo, che concordano gli obiettivi comuni da seguire per i prossimi 5 anni. Un'Europa forte e sicura e un'Europa prospera e competitiva sono i principali motori dell'agenda. L'obiettivo è creare una maggiore capacità industriale in termini civili e militari, anche per ridurre la dipendenza dal principale alleato, cioè gli Stati Uniti. I 27 leader dell'Unione Europea hanno delle ambizioni, ma come ottenere fondi per realizzarle? First of all, we need to use the European budget in a better way. So there is the whole discussion about how is the new EU budget going to look like, how are we going to spend this money and what is going to be the size of it. The second is the European Investment Bank, which will certainly play a greater role in the coming years when it comes to all these elements. And finally, new debt. Is there the possibility to create a new facility after the end of next generation EU in 2026? L'agenda comprende anche un capitolo chiamato Europa libera e democratica per rafforzare lo Stato di diritto. Le discussioni finali avverranno durante un vertice di fine giugno.